La preannunciata opposizione del centrodestra su alcuni punti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di Salerno non ha paralizzato l'attività dell'assise cittadina. Nessuna sorpresa infatti è giunta dalla votazione dei quattro punti previsti. Soprattutto sul terzo, quello relativo ai provvedimenti finanziari, le schermaglie verbali tra i consiglieri di maggioranza e quelli di opposizione non si sono tradotte in alcune iniziative di protesta da parte dei consiglieri del centrodestra che ieri mattina avevano annunciato una possibile astensione al momento delle votazioni. Ma il consigliere PDL Zitarosa ha subito riferito al suo capogruppo Anna Ferrazzano di non essere in sintonia con quanto annunciato ieri in conferenza stampa dei colleghi Celano e Dadinolfi. I provvedimenti finanziari, compresi quelli relativi alla variazione di bilancio di previsione per il 2011, all'introduzione dell'Imu, alla variazione dell'addizionale comunale IRPEF e da quella del regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili, all'affidamento del servizio di pubblicità, sono stati tutti approvati. Ed il sindaco Vincenzo De Luca ha replicato alle accuse rivolte ieri dai consiglieri Celano e Dadinolfi che avevano denunciato i previsti aumenti riguardanti le tasse comunali creando disagio ai cittadini salernitani nel prossimo anno. Sindaco, qual è la sua replica in merito alle accuse che arrivano dal centrodestra in materia di bilancio? Partiamo male, lasciamo perdere le polemiche inutili. Salerno sta vivendo un momento straordinario della sua vita, della sua storia. Credo che solo le persone che vivono in un altro mondo possono non accorgersene. Salerno sta vivendo un momento esaltante della sua vita e devo dire che noi siamo orgogliosi come Comune di Salerno per aver cominciato a costruire una nuova grande storia per questa città e per aver salvato l'economia di Salerno. Non so se ve ne siete accorti che da due mesi Salerno è la città più dinamica d'Italia. Registriamo un calo dei consumi in livello generale del 20%. A Napoli leggevo che l'80% dei commercianti pensano di vendere le licenze. Salerno è l'unica realtà d'Italia dove abbiamo gli alberghi pieni, dove abbiamo il turismo in crescita, dove abbiamo una tenuta o un incremento dei consumi, dove abbiamo un'economia che regge perché abbiamo creato, inventato un'economia del turismo e fatto quello che si cerca di fare a livello nazionale non lo si riesce a fare, cioè la seconda fase, quella dello sviluppo. Qui l'abbiamo sempre fatto, cantieri aperti dappertutto, veramente un miracolo. Allora approviamo un bilancio la cui pesantezza è semplicemente la conseguenza delle decisioni prese dal governo Berlusconi e dal governo Monti. Il Comune non c'entra assolutamente niente e le cose che vanno sottolineate sono queste. approviamo un bilancio, è una situazione difficile, senza toccare di una virgola i servizi sociali, è un miracolo. I servizi agli anziani, ai disabili, ai minori, senza chiudere gli asili nido. Un bilancio che rilancia cantieri, opere di riqualificazione della città e rilancia ancora di più la grande cultura salernitana. Fra le tante cose di cui mi auguro si accorgano tutti, c'è anche questa che Salerno oggi è un'eccellenza nazionale per il suo teatro, per la sua cultura, per i suoi eventi. Credo che ci sia veramente da essere orgogliosi.